Sono in corso i lavori per rinnovare la pavimentazione della sede tramviaria di Ponte Matteotti. Al momento è chiusa la corsia tram verso Lungotevere delle Navi, sono deviate su percorsi alternativi 10 linee di bus. Inoltre questa notte e domani notte dalle 21 alle 5.30 il ponte sarà chiuso alla circolazione di tutti i veicoli in entrambe le direzioni. Nella zona est della città avanzano invece i lavori sui binari della tram all'incrocio tra Via dei Reti e Viale dello Scalo di San Lorenzo. La linea 2 viaggia su bus lungo l'intero itinerario, per le linee 3 e 19 invece bus navetta tra Porta Maggiore e Valle Giulia e tra Porta Maggiore e Piazza Risorgimento.